Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Servizi WordPress, io sono Raffaele e in questo video andiamo a vedere header e footer per Elementor in versione in beta. Andiamo a vedere insieme di cosa sto parlando. Eccoci qui ragazzi su Elementor.com e lo tem. E lo tem è il tema ufficiale di Elementor, è stato sviluppato appositamente dagli sviluppatori di Elementor per Elementor. C'è una nuova beta, come sappiamo già, se avete visto il precedente video, e lo Elementor è un tema base, quindi non c'è praticamente nulla. Serve come base per andare a utilizzare Elementor per creare le vostre pagine o Elementor Pro per andare a utilizzare il Tem Builder su un tema completamente pulito. dove potete andare a costruire la vostra navigazione, il vostro footer, le vostre pagine, le vostre pagine di archivio, blog, eccetera. Quindi è una pagina completamente bianca. Che cosa hanno pensato di fare gli sviluppatori di Elementor? Hanno pensato di andare a inserire un footer e un header, quindi una navigazione simile a questa e un footer, che è la parte bassa della pagina, da integrare nel tema. Non è integrato direttamente nel tema, ma verrà abilitato all'interno dei setting di Elementor. Fino ad oggi questa funzione non era disponibile, quindi se utilizzavate la versione gratuita di Elementor, per andare a creare questo header e footer, dovete andare a utilizzare dei plugin di terze parti, altrimenti dovete andare a utilizzare soltanto la versione Canva, quindi senza footer e header, quindi senza navigazione e footer, sulla pagina, sulla costruzione di pagina, per andare a costruire voi manualmente. Nella versione di Elementor Hello 2.4 Relays Beta, ancora stata rilasciata, vengono inserite queste funzionalità. Quindi dai settings sarà disponibile questa nuova funzionalità, che vi metterà a disposizione all'interno di Elementor e non del tema, quindi una volta che avete attivato Elementor versione gratuita, automaticamente, se state utilizzando Hello Elementor, che è il tema di Elementor, potete andare a creare, a impostare, a utilizzare delle impostazioni, delle personalizzazioni per una navigazione e un footer di base. Se andate a vedere su GitHub Elementor Hello Tem, trovate questa pagina, dalla quale è possibile scaricare l'anteprima. Vi consiglio di andare poi, eventualmente, a testare questa anteprima, soltanto su un'installazione di WordPress di prova. Ok? Quindi, come funziona? Scaricate lo zip da qui, e poi l'andate a installare direttamente su WordPress, come adesso vi faccio vedere come. Alcune domande. Che impatto ha sulla performance? Non ha nessun impatto, perché lo tem rimane un tema pulito, leggero e semplice, quindi le impostazioni di navigazione e di footer saranno aggiunte su Elementor, quindi sul plugin e non sul tema. Per chi utilizza altri metodi con Elementor free, quindi altri temi, ci saranno dei conflitti? No, credo di no, ci potrebbero essere, perché con gli vari aggiornamenti di Elementor c'è sempre qualcosa da rivedere, ma essenzialmente se non vengono abilitate le impostazioni all'interno di Elementor fa riferimento alle impostazioni che già ci sono sul sito web che state realizzando. Queste impostazioni funzionano solo e esclusivamente con Elementor, non con altri temi. Come funziona con Elementor Pro? Con Elementor Pro e Elementor Pro, visto che ha il tem builder, andrà direttamente a sovrascrivere queste impostazioni, cioè le attivate. Se prima utilizzate il free e andate a impostare un header e un footer con la versione free, successivamente utilizzate la versione pro, la versione pro con il tem builder andrà direttamente a sovrascrivere quelle che sono le impostazioni di navigazione e di footer, una volta che applicate le condizioni di visualizzazione attraverso il tem builder. Andiamo a vedere adesso come funziona velocemente e quali sono i passaggi per l'installazione. Come vi dicevo prima, per iniziare l'installazione su un'installazione di WordPress di prova, andate qui a Ears Out It's Work e cliccate su You Can Find It Here e parte il download. Ok? Una volta è partito il download, andate nella vostra installazione di WordPress, di test, mi raccomando, e andate sott'aspetto temi. Se avete già installato una versione di Eloy Elementor, eliminatela. Per eliminarla, prima passate un altro tema, attivate un altro tema, ok? Poi successivamente cliccate su Eloy Elementor e in basso a destra c'è elimina, cliccate su Elimina, io ho già installato la nuova versione, quindi la lascio. Una volta che avete eliminato, avete soltanto un tema di base o più temi di base da parte di WordPress. Quello che dovete fare è andare su Aggiungi Nuovo, Carica Tema, andate a scegliere il vostro file, altrimenti lo trascinate all'interno dell'installazione, facendo semplicemente così, se state utilizzando un Mac, visualizzate quello che è il file all'interno del Finder, lo trascinate e lo inserite qui, ok? Per me è già installato, fate installa e successivamente attiva. Una volta che avete caricato il tema, ok? Basta attivarlo, lo attiviamo e automaticamente, come potete vedere, avete visto anche prima, avete attivato la versione di Nuovo Elementor, in questo caso Beta, 2.4.0. Fatto questo, automaticamente, poi successivamente, sarà scaricabile anche direttamente dai temi, ok? Attualmente, se andiamo alla ricerca del tema, e lo, eccolo qui, lo potete scaricare direttamente da qua, non dovete passare successivamente da GitHub, questa è soltanto una versione di prova, successivamente la 2.4 sarà rilasciata e quindi la scaricate direttamente dai temi. Una volta che avete scaricato il tema, l'avete attivato, ok? Andiamo a vedere da dove possiamo controllare l'header e il footer, vedete viene aggiunto una navigazione che precedentemente non c'era, perché Elementor, il loro Elementor non ha navigazione né footer, vediamo il footer, eccolo qui, già attivi sul mio sito perché li ho visti in precedenza, se andiamo su modifica con Elementor, e andiamo a vedere, qui in alto clicchiamo sul menu, e poi andiamo in impostazioni del sito, come vedete ci sono due nuovi pulsanti, header e footer, ok? Sotto header ci clicchiamo e abbiamo le varie impostazioni, il logo del sito, se lo vuoi visualizzare, non lo vuoi visualizzare, tagline, scritto sotto, se lo vogliamo visualizzare o meno, il menu, se lo vogliamo far vedere o meno, layout, ci sono tre layout di base, quello di default, che è questo qui che vedete, inverted, va a spostare il logo nella parte opposta del menu, e centrato, mette il logo e il menu al centro della pagina. possiamo andare a scegliere la larghezza, se pagina intera o boxed, e poi possiamo andare a scegliere una misura di riferimento per il nostro menu di navigazione, se vogliamo fare una navigazione personalizzata. Gap va a restringere o a allargare quello che è lo spazio tra il logo e la navigazione. Tipo di sfondo, possiamo andare a scegliere un colore, per esempio, ok, potete dare uno sfondo anche al vostro menu, oppure, vediamo se ci dà altre opzioni, possiamo mettere anche un'immagine volendo, come vedete, sotto al menu, poi non si vede più niente, quindi ve lo sconsiglio, se non fate un qualcosa di grafico fatto bene, andate al massimo a scegliere un colore. Togliamo anche questo, così si vede, perfetto, e sotto potete andare a scegliere, se volete far vedere soltanto il logo, soltanto il titolo, eccetera, colore, andare a cambiare il colore del titolo, del titolo, se lasciate, se avete un titolo scritto, potete andare a cambiare la tipografia, ecco, qui come vedete, ci sono diverse opzioni, che vi permettono di personalizzare, quella che è la navigazione, in alcuni aspetti, che precedentemente non era possibile fare, ok, anche qui si può andare a cambiare, quelli che sono i font, menu, seleziona il menu, ma il menu, in questo caso abbiamo scelto il menu, orizzontale o drop down, se avete delle sottocategorie nel menu, qui ci sono i break point, il colore, anche del menu, potete andare a modificare i colori del menu, i toggle, che sono quelle iconcine, che appaiono, se avete delle sottocategorie nel menu, e anche qua potete andare a modificare la tipografia, è abbastanza interessante, come vedete, questa opzione, soprattutto per chi utilizza Elementor Free, perché nella versione Pro, potete andare a creare la vostra navigazione, e il vostro footer con il theme builder, fatto questo potete tornare indietro, stessa cosa per il footer, clicchiamo su footer, andiamo giù in basso, vedete qui sotto il footer, e potete anche qui andare a selezionare le varie impostazioni, il logo, c'è un logo, tagline, menu, se c'è un menu, copy, se c'è la scritta copy, anche qui abbiamo inverted, quindi si sposta da destra verso sinistra il contenuto, centrale, se volete mettere centrato, o di default, larghezza, se volete impostare una larghezza specifica, gap, se volete avvicinare o allontanare, e le impostazioni sono molto simili, a quelle che abbiamo già visto precedentemente, potete andare a cambiare la scritta del copyright, qui in basso, all'interno di questa casella, potete andare a cambiare il colore, come abbiamo fatto sopra, la tipologia di tipografia, e potete andare a modificare i vari aspetti, come abbiamo già visto, una volta fatto questo, quello che dovete fare, è andare a salvare, e cliccare su aggiorna, e le varie impostazioni, verranno salvate, andiamo a fare anche un'altra prima, è un aggiornamento interessante, perché dà la possibilità, a chi non ha Elementor Pro, di andare a creare una navigazione, e un footer personalizzato, senza dover ricorrere ad altri plugin, a plugin di terse parti, e appesantire il sito web, sarà una funzionalità che sarà rilasciata a breve, credo a brevissimo, e per questo video ragazzi, è tutto, io vi ringrazio, vi saluto, ciao, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti da Raffaele, Grazie a tutti, a tutti. Grazie a tutti.